Il rilassamento è fondamentale, ma non è tanto il rilassamento di spalle, di gomiti, la testa non gira con la volontà, perché lavorerei col fegato, la testa gira perché è appesa al corpo. Ma la spinta parte sempre da qua. Che cosa fa la pancia? Mentre il braccio colpisce lei torna un po' dritta. Fa come fa quello strumento, che è uno strumento musicale. Perfetto, guarda. Fa come fa quello strumento, non è che fa, ma fa così. Ma soprattutto mi colpisco, non col pugno, ma col braccio, tant'è. E mi colpisco, non col pugno, ma col braccio, ma in me. Tant'è e in me sono lo stesso? Sono un meridiano, domande importanti, pochi meridiani. Noi abbiamo tutti i meridiani che sono messi per così, per lotta. E ne abbiamo uno solo che li lega tutti. Si chiama dai mai, il meridiano della cintura. Sei come un covone, sei come un fascio di grano, come energia. Abbiamo tre yin, tre yang, tre yin, tre yang e uno... Ma che storia? Solo lui? Solo lui, solo lui è messo così. Si, non ha punti propri, ha i punti degli altri. Quindi lega i punti degli altri. E' un po' come uno spago che unisce tutti i meridiani yin e yang del tronco, del corpo. Quello davanti è Quan Luan, noi lo chiamiamo Tan Tien. E quello dietro è Min Men. Dei tre Tan Tien è il Tan Tien che accumula l'energia. E' la parte dietro, la parte davanti e la parte dietro del Tan Tien basso. Non sono pari, eh. Tan Tien è un po' più basso e Min Men un po' più alto. Non sono pari. No, perché il mediano della cintura è così. Ah, ok. Ok. Stai trovando delle regole. Ecco, esatto. Fantastico. Quindi tu praticamente vai a stimolare... La vita. Con una porta dell'energia. Tonifichi il rene, richiami la vita. Qui tonifichi il rene? Si, tonifichi il rene e richiami la vita. L'associato a camminata. Ah, beh. Tanti esercizi fanno così. Ah. Tanti. Tanta roba. Tanti. 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 Tanti.